Un saluto a tutti i campanari di YouTube, ci troviamo a Trobaso, questa è la chiesa parrocchiale, abbiamo un concerto di 5 campane che adesso ascolteremo nelle suonate festive. Oggi è la settima domenica di tempo ordinario, l'ultima domenica prima della quaresima ed è con questo video che auguro a tutti i campanari di YouTube una buona domenica in preparazione al tempo quaresimale che sta giungendo. A presto! 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 A presto!